ciao a tutti e bentornati su indie gameplay it a episodio numero 3 della serie di subnautica allora ci avevamo lasciati la volta scorsa promettendoci di recuperare dei materiali per poter craftare l'enorme sottomarino ed è quello che cercheremo di fare questo episodio dato che magari la cosa potrebbe risultarvi un pochino noiosa vi parlerò un attimo di un paio di cose allora la prima è che non so poi se sia stato fatto in modo sarcastico o sul serio io spero che fosse solo una battuta comunque l'altro giorno ho trovato nei miei video un commento io li leggo tutti poi a volte non ho il tempo di rispondere sono a lavoro e quindi non rispondo comunque li leggo in ogni caso tutti un commento che diceva guarda da quando hai raggiunto un ton numero di iscritti non lo fai più per passione e lo fai per i soldi allora premesso una cosa che su youtube potete leggere ovunque su internet non si fanno soldi diciamo che per guadagnarci e viverci dovete essere tra i 10 youtuber più famosi al mondo parliamoci chiaro seconda cosa i video non li faccio per passione può capitare il video sottotono ma come può capitare a tutti ognuno c'è i suoi cazzi ognuno c'è i suoi problemi e quindi può capitare e se dovesse capitare mi scuso se io poi sono magari troppo vago in un gioco così me lo dite io faccio un video di approfondimento e su questo non ho mai avuto problemi però sul non aver passione allora questo è un altro discorso perché vi volevo dire semplicemente che ho speso veramente parecchi soldi per acquistare giochi che magari poi ho giocato solo una mezz'ora due ore, cinque ore e basta e giochi che ho acquistato magari per fare appunto dei video e farveli conoscere alcuni video addirittura sono già caricati su youtube magari da un mese e mezzo o due e stanno aspettando il loro turno perché poi escono cose nuove cose che è meglio pubblicare prima che magari stanno per uscire giochi di questo tipo quindi magari alcuni video che vedete sono già uppati da parecchio tempo quindi il video tra l'altro che è stato mi pare commentato con questo commento così idiota era penso anche abbastanza vecchio non l'avessi caricato giusto due giorni prima e calcolando che gli iscritti cambiano salgono, scendono da un giorno all'altro figuriamoci da un mese all'altro penso che sia la giustificazione che il commento sia una cazzata incredibile comunque niente questo era un piccolo sassolino che volevo togliermi e ovviamente l'ha postato solo una persona e volevo solo aprirgli leggermente gli occhi un'altra cosa che vi volevo dire intanto è che ci eravamo lasciati l'episodio scorso con delle domande su questo gioco cioè sarà possibile entrare nella base nella base scusate nella nave che vediamo là in fondo la risposta teoricamente dovrebbe essere sì perché il gioco esiste anche in modalità non mi ricordo se ve l'ho detto nelle due puntate scorse è possibile giocarlo in modalità sperimentale che è una modalità che si aggiorna praticamente ogni giorno mentre magari il gioco ha un aggiornamento ufficiale una volta al mese questo è una modalità che si aggiorna giorno per giorno ovviamente con cose molto valgate e ho potuto vedere in questi aggiornamenti che le radiazioni che emana la nave le radiazioni che al momento si percepiscono solo quando si raggiunge la vicino si avvicina la nave raggiungono e si propagano col passare dei giorni sarà possibile dalla versione sperimentale costruire una sorta di tuta anti-radiazioni e poter arrivare fino alla nave e su internet, su youtube dovrebbero trovarsi anche dei video di persone che ci sono anche entrati all'interno di questa nave allora intanto io ho preso un po' di rottami oh merda ma ce l'ha con me questo ok allora vediamo subito possiamo produrre dell'acqua perfetto lo facciamo subito almeno ne beviamo un po' ancora acqua altra acqua va bene allora altra acqua ancora dobbiamo essere pieni ok vediamo se riusciamo a fare qualcosa tipo allora il silicon e il vetro ci serve praticamente come se pioresse e poi soprattutto il titanium abbiamo visto che ce ne serve veramente una quantità spropositata per poter fare i piccoli ormai per poter fare i lingotti ce ne servono più o meno 50 quindi adesso vediamo un attimo se riusciamo a prendere altro titanium per poter fare un lingotto eccolo qui titanium ingot perfetto e poi dobbiamo fare il plat steel e ci serve il lithium ma il lithium avevamo già visto che non è facilissimo da trovare però vabbè adesso ce l'abbiamo qualcosa di necessario ancora plat steel ok iniziamo ad averne già due dobbiamo averne 5 alla fine quindi iniziamo a depositarlo qui sono due il silicon lo mettiamo lì ne abbiamo tre abbiamo ancora del copper abbiamo del sale che ci permette di cucinare dei intanto io mangio questi ok continuiamo la nostra esplorazione anche se è notturna vediamo il simut il simut ah ops ahia vabbè fortunatamente la vita del sottomarino qui non scende a queste altitudini profondità però dobbiamo dobbiamo assolutamente andare a trovare altri materiali soprattutto silicon soprattutto appunto silicon scusate quarzo e il litio forse un paio di litio ancora e e soprattutto il titanium titanium che troviamo come ormai ben saprete con gli erottami o scavando direttamente alle pareti allora uno scrap metal se non ci sono quei pesci che proteggono in modo ossessivo i erottami vediamo 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 ma potrebbe essere comodo anche craftarci qualcosa in più tanto per diciamo dare un senso a questo episodio che comunque un senso non ce l'ha nel senso che stiamo semplicemente raccogliendo dei materiali questa non sarà una serie che durerà decine di puntate ma voglio solo farvi vedere fino a che punto si può arrivare al momento e magari che so mentre faccio registro mentre passano i giorni ups danneggiati al 90% ecco dicevo mentre magari escono anche altri aggiornamenti ups inventario è full ci prendiamo due funghetti che fanno sempre bene qua altano non mi pare che ci sia c'è forse un beh beviamoci un po' d'acqua va ok vediamo se riusciamo a prendere gli scrap ok perfetto perfetto 72 di di sete quindi siamo messi discretamente bene e tra un po' dovremmo caricare pensare di caricare la la pila qua ma tanto la pila non è un problema perché il rame se non mi ricordo male non dovrebbe chiedere non dovrebbe essere richiesto dal dal sottomarino grosso comunque ok dai andiamo e produciamo qualcosa allora vediamo un attimo qua blue prince vediamo platzi lingot enamored glass allora vediamo subito l'enamored glass ci serve lo stalker tooth tooth ne abbiamo due e del glass e del glass beh produciamo del glass ok ancora del glass vale e facciamo l'enamored glass due volte ok ne abbiamo due su cinque adesso qui infatti vedete che ce lo segna due allora iniziamo da un'occhiata qua allora abbiamo plat steel plat steel glass glass enamored glass beh prendiamoci altro quarzo non si dice quarzo litium litium ok ci mancherà solo un litium allora analyzer niente allora riusciamo a produrci del glass ancora poi dobbiamo andare qua e abbiamo ancora i i denti del quel mostro orribile subacqueo ok iniziamo da averne tre tre su cinque quindi siamo già messi bene tre su cinque allora abbiamo due su cinque tre su cinque e iniziamo a vedere anche ci serve l'advanced wiring kit che ci chiede due gold e un computer chip il computer chip lo troviamo qui un silver jeweled disk piece due e quartz ok allora andiamo a vedere il silver lo dovremmo avere ok e silver i disca adesso vi faccio subito vedere di che cosa stiamo parlando allora vediamo un attimo due e quartz che non abbiamo non abbiamo più ok andiamo vediamo se riesco a farvelo vedere senza dover andare chissà dove o prendere il sottomarino allora il quartz adesso non ci poniamo il problema perché avanziamo un po' in giro e ce lo ce lo troviamo forse magari qualche caverna qua sotto con un po' di fortuna lo troviamo basta ricordarci da che parte siamo entrati perché qua potrebbe anche andare a finire molto ma molto male via 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 eh infatti vedete cosa succede ok il quartz abbiamo preso anche il 30% di vita con i pesci esplosivi ma va bene abbiamo preso il quartz adesso i jewel disc ok allora bene stiamo magari a vedere questo prima che cos'è ok titanium molto bene allora il jewel disc sono le materiale craftabile che si trova sotto forma di diciamo corallo sulle rocce subacquee e va tagliata col coltello quindi adesso magari ci spostiamo in questa zona e guardiamo perché io non mi ricordo mai dove dove sono ce ne sono di due tipi cioè in realtà sono anche più di uno più di due ma adesso aspettate che respiro allora sono dei dischi appesi alle rocce cioè attaccati alle rocce ma ce ne sono di due tipi uno di quelli è quello che ci serve l'altro no e hanno entrambi diversi tipi di varianti in termini di colori ma al momento non hanno una vera propria utilità diciamo nell'averli diversi qua siamo nel territorio in cui poi torneremo per scavare l'ultimo litio che ci ci rimane intanto ne approfitto scavo anche questo pezzettino qui un altro titanium o un altro questo che ci serve veramente tantissimo non non li vedo ancora questi dischi ma continuiamo con la nostra esplorazione che probabilmente abbiamo anche sbagliato zona al massimo ci prendiamo eccoli qua dovrebbero essere questi coltellino inventario is full merda vabbè libera loop fish va ok jeweled disc 1 2 presi più facile a dirsi che a farsi in questo caso ok la vita intanto è quasi ripristinata al massimo non abbiamo per niente spazio nell'inventario quindi ce ne torniamo subito a casa qui scarichiamo qualcosa e torniamo qua a mangiare magari un po' di alghe ok allora titanium subito ce ne facciamo uno poi dicevamo ci serve un silver per fare quella parte lì lo pigliamo qua dall'inventario ok computer chip possiamo farci il compass e il termometro cosa che io onestamente non ho neanche mai fatto soltare di vedere i punti cardinali e la temperatura dell'acqua al momento non interessa advanced wire kit ci servono gold per 2 quindi vediamo un po' di gold qui ma non credo perché magnesio plus steel plus steel vediamo se qua dentro c'è qualcosa no un po' di acqua niente ci manca il gold copper 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 silicon niente pazienza produciamo di nuovo del titanium il gold lo troviamo in profondità dove ci sono i quei cumuli scavabili allora siamo già a 3 produzioni magari riusciamo a farci anche il lingotto ok abbiamo 2 titanium ingot adesso forse ce la facciamo titanium 2 titanium e ci servono anche 2 di lithium che prendiamo lithium lithium perfetto da che ci siamo plus steel 1 e plus steel 2 perfetto quindi ricapitolando ci manca un litio per poter fare il ed è ovviamente del titanio per farci il quinto lingotto di plus steel ci manca del glass quindi ci serve del quarzo ancora e e poi ci manca del gold il gold magari possiamo provare a andare a vedere se c'è qualcosa qua in profondità prendiamoci il simot che magari qualcosa troviamo dovrebbe ancora avere un po' di carico un 31% di carica quindi andiamo a dare un'occhiatina due gold si fanno dai con un po' di pazienza scusate ma non riesco a resistere devo prendere anche questi cumuli qui prima che mi veda il besce con i denti aguzzi ok eccolo lì il bastardo lì ce n'è un altro ma sì dai andiamo eccolo lì che mi ha visto e vai un po' a cagare anche tu allora vediamo abbiamo il 27% di energia residua riusciamo a farci un girettino così un po' per per scoprire che cosa c'è qui no stiamo girando in tondo ma è semplicemente perché la zona non mi piace e non sembra avere chissà quali punti di scavo no adesso lì sotto ce n'è uno vediamo vediamo se siamo fortunati dei gold titanium che si può pretendere di qua sotto qua che si va un po' in profondità oh lì oh lì lì ci sono ben tre buchi dove scavare intanto il cibo io lo sto finendo in modo un po' pericoloso infatti ok la coppa no voglio togliere il coltello perché voglio essere io a scavarlo e vedere cosa trovo allora titanium 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 niente emergenza cibo dobbiamo assolutamente ma non è un problema mangiare perché ci spostiamo qui schiantiamo anche il simoth sul fondale e mangiamo come se non ci fosse un domani scusate ok tac mangia 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 e 37 non è niente di che 2 3 3 punti di scavo anche qui ci andiamo subito dai dai che magari silver un gold litium oh che culo il litio che ci serviva ok ottimo l'ultimo litio che ci serviva quindi a questo punto ci manca solo del gold diciamo che il grosso è fatto per il crafting del sottomarino dobbiamo solo avere il culo di trovare del gold ma questo probabilmente lo faremo nella prossima puntata mi sarebbe piaciuto mi sarebbe piaciuto anche craftare del copper di nuovo craftare anche lo stasis rifle che sarebbe una sorta di congelatore un fucile congelatore che poi detto solo congelatore uno dice copper bene bene dai allora andiamo avanti si poi il grosso è appunto questo il lavoro del titanium assolutamente il titanium è una cosa che dovrebbe starci ok ok torniamo a casa perché vediamo anche se riusciamo a sostituire senza troppi problemi la batteria del del simot se riesco a farvelo vedere perché di copper io ne ho tanto e credo che serva anche un po' di merda devo buttare qualcosa butterò uno scrap metal ok perché per farlo mi serviranno tre funghi acidi eh no forse anche sei vabbè niente dai andiamo andiamo così e poi vediamo tanto non ci torniamo subito allora la batteria è quasi a livello critico ma soprattutto anche la mia fame allora adesso intanto siamo pieni come zaino quindi ci 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 scarichiamo tutto qui craftiamo quello che dobbiamo poi usciamo immediatamente allora titanium ogni blocco di di metallo che troviamo sotto sono traie di titanio quindi ogni volta che usciamo ne cerchiamo almeno traie o quattro e riusciamo a fare un lingotto vediamo se riusciamo a fare un altro lingotto ancora che sarebbe il quarto che ci manca eh no non ne abbiamo più quindi se non basta titanium ingot e poi dovremmo avere anche il litio per poter fare l'ultimo plat steel ok la parte peggiore è passata abbiamo i 5 lingotti ci manca adesso vabbè il quarzo e e altri materiali il computer cp io lo mollo lì per sicurezza non di evitare di utilizzarlo così accidentalmente eh niente adesso vediamo se riusciamo a fare la power cell mi servono due batterie le batterie per farle ho bisogno di eh del copper e dei funghi acidi almeno 6 quindi noi usciamo subito vabbè mentre andiamo ci cibiamo anche un attimo perché sento di averne bisogno direi l'intitare ci curiamo un po' ci ci cibiamo un po' ok vediamo se riusciamo a mangiarli tutti ok sì dai siamo messi abbastanza bene è stata una bella scoperta questa questa alga sottomarino perché era veramente difficile e adesso questo ce l'ha con me ma perché non ho fatto niente vabbè ascolta io adesso mi prendo un po' di questi tu non scassare le valle me ne vado subito me ne prendo anche di più in modo da poterne anche mangiare e me ne vado sostituiamo la pila e poi siamo pronti per il prossimo episodio dove tenteremo di ultimare i lavori trovare due di gold e partire ok allora uno una batteria due batterie e te non è non è difficilissimo potrei farne addirittura tre comunque no e la power cell mi serve un silicon che ho qua è un peccato perché me ne serve uno di silicio per poter fare il cyclop però pazienza adesso abbiamo in mano la power cell la power cell vedete la possiamo andare a sostituire dietro exchange power cell però io temporeggio perché aspetto che arrivi alla fine e poi cambio la pila perché sono assolutamente contro ogni tipo di spreco current generator vedete possiamo generare dell'energia con quello che abbiamo in mano la power cell e il titanium ma non ci serve perché semplicemente ci servirà in futuro quando avremo la base sottaranea per fare la base sottaranea ci serviranno altri top numero di episodi per poter craftare tutto quello che ci serve ragazzi vi ringrazio della visione fatemi sapere come sempre cosa ne pensate se volete tagliare pezzi fare vedere il minimo indispensabile per poter costruire il sottomarino e non vedervi tutti i passaggi fatemi sapere scrivetemelo qua sotto alla prossima ciao ciao ciao